Se hai un immobile in affitto, il mio consiglio spassionato che ti regalo stasera è quello di fare il calcolo della redditività. Attenzione, non mi puoi dire che hai un immobile del valore di 300.000 e prendi 12.000 euro l'anno, perché detto così, magari uno dice, vabbè, io guadagno il 4% all'anno. Sì, vero, ma è lordo, perché poi da questo bisogna toglierci, naturalmente, in primis le tasse e poi la gestione del condominio e poi tutti i vari ciappini che ci sono legati a quelli immobili e poi, naturalmente, anche tutto quell'insieme di energie che derivano dal rapporto tra la proprietà e il conduttore che c'è all'interno. Il rischio, a volte, ti pagano, non ti pagano, bisogna tenere dietro le persone e via andare. Quindi quel 4% sappi che magari potrebbe essere anche un 2,7, un 2,8. Allora la vera domanda è, ma se io avessi 300.000 euro liquidi con un ottimo private banker, potrei guadagnare anche il 7, l'8, il 9% oggi? La risposta è sì. Quindi la riflessione che ti voglio dare io è non fare solo il calcolo della redditività lorda, ma fai anche quella netta e soprattutto se non lo conosci vai subito a conoscere un ottimo private banker. Potrebbe essere una buonissima alternativa. Ciao, buona serata.